La Guardia di Finanza di Genova ha arrestato uno spacciatore fermato con oltre 15 kg di cocaina, la droga era contenuta in un borsone e suddivisa in 14 panetti. L'arresto nell'ambito di un controllo nel quartiere di Sestre Ponente. Il 26enne di nazionalità albanese è stato notato mentre si recava a piedi verso una strada senza uscita e alla vista dei militari è apparso nervoso e si è allontanato in fretta. Il giovane si era avvicinato all'auto con dentro la cocaina per recuperarla. È stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere.